Presidente, un risultato rotondo, partita in bilico solo nei primi 45 minuti in cui il Salerno Baronissi ha cercato di fare qualcosa con un pressing alto magari per Mertini di difficoltà, però non ha creato particolare ambasce. Era questa, secondo lei, la partita di Civa? L'abbiamo vista particolarmente fervido sugli spalti. Sentiva l'importanza della gara? È ovvio che la sentivamo tutti perché comunque giocavamo con la seconda della classe. Il Salerno Baronissi è un'ottima squadra, ha dimostrato sempre di fare ottime partite, un bel gioco, un ottimo mister e noi ci tenevamo a fare bella figura in questa partita. Devo fare complimenti ai miei ragazzi perché sono entrati dal primo minuto con la testa giusta. I primi minuti si sono studiate un po' le squadre. Poi c'è stato il gioco che noi facciamo sempre, quello che vuole il nostro mister, palla a terra, massimo due tocchi e è uscito fuori il risultato rotondo. Parliamo adesso della squadra. Il progetto Virtus Cilento era la squadra più forte, è la squadra più forte sulla carta. Quanto è difficile gestire il fatto di essere la squadra più forte? Faccio anche un esempio, magari che vi aspettano su tutti i campi. Arriva la grande Virtus? Sì, e questo comunque partire fin dall'inizio e dire che noi facciamo un campionato di vertice, questo è un po' un handicap per noi perché tutte ma tutte le squadre ci aspettano. Noi ad oggi non mi ricordo mai di aver fatto una partita semplice e questo fa ancora più onore ai nostri ragazzi. L'ultima domanda, qual è il progetto Virtus Cilento? È un progetto a medio e lungo termine. Qual è il sogno di Carmelo Infante da qui a 3-5 anni? Allora il sogno è quello di far capire al comprensorio che ci dobbiamo unire per ambire a campionati più importanti. Noi stiamo seminando, stiamo cercando di far capire qual è il progetto. Il progetto è un progetto molto semplice. Nella nostra squadra, nella nostra rosa ci sono solo, partendo dai dirigenti, allo staff tecnico e giocatori solo cilentani. Noi dobbiamo capire con la forza dei cilentani qual è il massimo delle categorie che si può ambire e ce lo diranno loro quale saranno le categorie. Magari un berderby con la Gelbison fra qualche anno? Ma la Gelbison, noi comunque la Gelbison fa la Serie D, è una bellissima squadra, è una bellissima società. Noi non li vediamo come avversari, noi dobbiamo comunque stare in sinergia secondo me con tutti. Noi quest'anno siamo partiti da zero, ci siamo uniti dirigenti di questo comprensorio per fare questo progetto. Spero che più persone man mano capiscono il nostro progetto per fare squadre per ambire altre categorie. Ok, con Carmine De Marcon, rotondo 4 a 0, partita che all'inizio era un po' di studio, loro hanno cercato di bloccare le vostre fonti di gioco con un pressing alto, poi alla lunga quell'1-2, quasi come un colpo del capo di un pugile, avete messo in ghiaccio la partita? Sì, infatti è stata una partita all'inizio abbastanza combattuta. Loro è una squadra, vero che mancavano a loro qualche elemento, però l'abbiamo studiata bene, l'abbiamo preparata bene, poi alla fine dei conti loro, appunto prendendo il primo gol, subito il secondo, è finito poi il primo tempo per fortuna nostra e un po' poi il secondo tempo siamo riusciti fuori con il nostro gioco, giustamente loro si sono spinti in avanti per poter riaprire la partita che ci sono quasi riusciti prendendo il palo. Ci è andata bene, però è effettivamente andata come speravamo e come l'avamo preparata. Tu ci tenevi a fare gol, nel senso è vero che contro la squadra, un po' non sacrificato a sinistra, ma forse sei stato uno dei quelli meno cercati nel primo tempo, più sull'asse, se ne è esposito che faceva più il movimento, e poi hai fatto un gol dei tuoi, controllo orientato di tacco e palla una rasoata. Ci tenevi a fare gol in questa partita? Sì, per un attaccante è sempre bello fare gol e lavori durante la settimana per fare gol la domenica, però mi sono previstato questo obiettivo quest'anno, quando ho sposato questo progetto a dicembre, di voler vincere il campionato, non mi nascondo, quindi è vero che è bello fare gol, mi ripeto, però vincere è più importante. Progetto Virtus Cilento, tu l'hai sposato in pieno, venivi da un anno un po' così, cause e infortuni, innanzitutto, primo, come stai? Secondo, rimbiaci qualcosa magari del passato a Santa Maria in cui anche c'era un progetto importante? No, no, anzi, ho solamente da ringraziare a Santa Maria che mi hanno sempre trattato come un figlio, sono state delle scelte extra calcistiche che mi hanno portato qui, però sono contento, dai, non ho nulla da recriminare. L'ultima domanda, quanto è difficile quando hai la responsabilità di vincere il campionato perché sei la squadra più forte, perché De Marco, perché sei me, perché è esposito, quanto è difficile poi andare sui campi e oppure addirittura preparare bene le partite e mantenere la concentrazione giusta? È difficile perché ogni domenica, sembrano parole fatti, frasi fatti, ma ti aspettano dovunque, come giusto che sia, però è pure bello perché comunque sai che è un potenziale da sfruttare, se giochi come devi giocare, quasi sicuramente, fortuna pure volendo, va bene. Grazie a tutti.